ciao bentornati sul mio canale è un po di tempo che lo utilizzo su un piano volante appoggiato sul tavolo da saldatura credo che sia arrivato il momento di creare una postazione dedicata che permetta di valorizzare e sfruttare tutte le caratteristiche che ha questa macchina per chi non conoscesse la stepcraft della serie m vi invito prima di tutto andare a vedere il primo video che ho realizzato dove mostro l'assemblaggio e ne spiego le caratteristiche tra queste caratteristiche una di quelle che spicca è la possibilità del carico passante ovvero la possibilità di rimuovere completamente il piano di lavoro ed espandere ulteriormente le possibilità di lavorazione per questo voglio tenere estremamente in considerazione questa capacità e nella realizzazione della postazione lasciare anche il piano della postazione libero in modo una volta rimosso il piano di lavoro della macchina di avere il vuoto e la possibilità di inserire oggetti molto voluminosi e poterli lavorare direttamente qua quindi per realizzare questa postazione questa scrivania come la vogliamo chiamare la mia base di partenza non sarà zero sarà un riciclo un'altra volta andrò a riutilizzare il banco sega circolare multifunzione che avevo realizzato tempo dietro di cui avevo fatto una serie vi invito anche andare a vederla perché è interessante tutte le lavorazioni che ci ho fatto dietro lascio i link in descrizione lo smantello rimuovo i piani lo taglio lo allargo lo adeguo alle misure della mia cara stepcraft e niente poi aggiungiamo qualcosina adesso vi lascio il video così non sto chiacchierare troppo mi raccomando una cosa importantissima iscrivetevi al canale attivate le notifiche per non perdere i nuovi contenuti se volete supportarmi semplicemente condividendo uno dei miei video vi ringrazio infinitamente ora partiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci qua vi ho risparmiato una parte noiosissima ovvero le ore e ore di carteggiatura verniciatura carteggiatura e verniciatura direi di risparmiarvi anche il tempo impiegato per il taglio dei pannelli alla bordatura vi faccio vedere il lavoro già completo così vi do qualche spiegazione 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 5 5 5 6 5 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 20 19 19 18 20 22 21 22 22 23 tutti gli elementi o una parte, in base a quello che serve, e posso andare a rimuovere il piano che ho realizzato in due elementi. Ovviamente i pannelli non sono perfetti perché sono anch'essi di riciclo, come è stato il banco stesso, è rimovibile questo piano e già qui possiamo iniziare a sfruttare un accessorio super che vi consiglio assolutamente di mettere nel carrello della spesa quando ragionate l'acquisto della vostra stepcraft, ovvero il supporto angolare. Questo vi permette di bloccare i pezzi a 90 gradi e eventualmente fare delle lavorazioni di testa. Lavorare oggetti con un'altezza ben più alta dell'altezza utile di lavorazione della macchina, in questo modo potete sfruttare il vuoto che c'è sotto e portare il pezzo all'altezza utile per la lavorazione. Questo ovviamente apre la strada a tantissime 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 lavorazioni. Ora vi sto facendo vedere una scatola piccola. Se ci fosse la necessità potrei andare a rimuovere anche il piano inferiore e avere tutto lo spazio utile che c'è fino a terra. Quindi veramente le capacità di questa macchina vengono ampliate e sfruttate al massimo. Nel momento in cui la utilizzo con i piani d'appoggio ovviamente avrò la possibilità di sfruttare anche come deposito degli accessori della macchina, l'aspiratore che andrò a collegare al tubo di aspirazione che vedete è tutto ben ordinato sulla macchina. Poi altra cosa che ho voluto assolutamente, qui vedete che ho posizionato il tasto d'emergenza. Il tasto d'emergenza è in una posizione comoda tra la parte dove si gestisce la macchina e la parte dove si lavora. Quindi riesco qua facilmente mentre vedo la lavorazione ad allungare il braccio e interrompere per emergenza e lo stesso qui se sto lavorando dalla parte vicino al pc. Poi vedete che apparentemente ci sono dei difetti, ci sono un bel po' di fori in giro per la struttura. Questi erano quelli dove passavano le viti del piano di lavoro del banco sega. Le ho lasciate volutamente perché andrò a realizzare una tavola per portarmi in giro tastiere mouse e tutti questi fuori posso sfruttarli per andare ad agganciare nelle varie posizioni in cui mi metto a trafficare, posso andare ad agganciare la tavoletta dalla tastiera o eventualmente altri accessori. Un'altra cosa che ho voluto assolutamente è il cassetto. Il cassetto primo per mettere tutte le frese, il secondo dove andrò a mettere gli accessori di fissaggio e il terzo dove posso magari riporre la fresatrice quando installerò altri accessori. Vi ricordo che questa macchina può installare un'unità laser, pirografo, il filo per il taglio del polistirolo, mille mille accessori. Poi in descrizione ovviamente vi lascio i link dei vari mouse da stiera wireless, il braccio del monitor che è comodissimo. Questo è un 32 pollici recuperato da quelle offerte con i decoder e così via, per cui non ho fatto spese, ho fatto tutto di recupero anche il pc che avevo vecchio, che va benissimo. Il braccio è estremamente comodo, permette di metter via quando non serve avere poco ingombro, invece quando serve, magari sono là in parte alla macchina, mi tiro il braccio in una posizione dove riesco a vedere bene le cose che faccio. Qua dietro rimane l'angolo del pc, come vedete ho cercato di avere le connessioni più pulite possibile, meno cavi possibili in giro, anche il computer è dentro precisissimo, ho fatto arrivare un case apposta perché quello che avevo non ci stava o perlomeno ci stava ma andava in appoggio, non permetteva la ventilazione del pc. Questo pc è una piccola opera incompiuta di questa cnc perché non riesco a chiudere lo sportello, come vedete le ventole che ho trapiantato dall'altro pc sporgono veramente tanto e quindi penso che sia uno dei primi lavori che andrò a fare adesso. Metto dentro un pannello, faccio ritagliare una bella cornicetta per venire in fuori e poi applico il suo vetro. E quindi niente, adesso bisogna farla lavorare. Gliel'hai detto? Cosa? Diggielo! Iscrivetevi e attivate le notifiche. Se volete supportarmi semplicemente condividendo uno dei video che realizzo, vi ringrazio infinitamente. Ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!